Mauro Pagliarini, come Comitato Sole, voi avete sempre lottato per portare a Civitavecchia le energie rinnovabili, possiamo dire così. Adesso c'è un progetto in questo senso, è così e qual è questo progetto? Diciamo che questo progetto è quello di far diventare Civitavecchia tutto il territorio dipendente da energie rinnovabili al 100% e di creare un porto off-grid, cioè staccato completamente dalla rete, che dipenda dall'energia rinnovabile e dalla produzione di idrogeno. Tutto questo è possibile? Tutto questo è possibile, diciamo che è già tutto realizzabile in questo momento, non diciamo niente di nuovo, ci sono già tutte le tecnologie a disposizione per poterlo realizzare, ci vogliono i finanziamenti logicamente. I tempi, di quali tempi parliamo? Tempi lunghi, tempi brevi? Diciamo che i tempi possono essere brevi se parliamo di inizio, di iniziare con parti del porto fino a coprire completamente il porto e poi a riguardare tutto il territorio. Logicamente i tempi con precisione li possono dire i tecnici, io li posso dire che nell'arco di dieci anni si realizzerebbe il tutto secondo me, però io non sono addetto a queste cose e quindi quando verranno i tecnici anche a parlare con voi potrete rivolgergli questa domanda e sapranno rispondere precisamente. Come Comitato Sole avete altre novità in mente? Diciamo che come Comitato Sole è un comitato ambientalista, trasversale, ha adesione personale, dove non si parla di partiti e di nulla, è solamente un insieme di persone che hanno a cuore l'ambiente e quindi ci occupiamo di tutto quello che riguarda la protezione dell'ambiente, soprattutto sul territorio. Grazie.